Io ho perso il conto, letteralmente, di tutti i commenti che ho ricevuto in cui eravate proprio voi a domandarmi Luca ma quando esce la seconda parte del video relativo alle truffe? Ragazzi non è stata cattiveria, semplicemente questa tipologia di video richiede molta tempistica per essere elaborata serve raccogliere le informazioni ma soprattutto serve scrivere il copione che poi viene utilizzato per avere a disposizione tutti i dettagli e potervi raccontare tutto quello che è effettivamente accaduto Ecco è proprio per questo che oggi vado un po' più a mano libera per permettere l'uscita di questo secondo e ultimo video che va a completare il pacchetto relativo alle truffe cercherò di raccontarvi veramente quello che è accaduto e leggervi quelli che sono gli screen della chat Devo per forza di cose fare così perché sennò questo video non verrà mai alla luce e quindi dato che mi sono salvato le varie chat per quando ho preparato il documento per la denuncia beh eccoci qua Se ancora non avete visto la prima parte in cui vi racconto tutto quello che mi è accaduto di come sono stato truffato cercando di acquistare carte pokemon sul marketplace di facebook beh vi lascio il video precedente qui sopra nelle schede cliccateci sopra e andatevi a godere un racconto che è veramente dell'incredibile ma quello di oggi è un racconto ancora più assurdo perché veramente siamo andati a tirare in ballo anche cose che vanno al di fuori di una semplice truffa anche in questo caso sono stato attirato richiamato dalla proposta di vendita di uno shining charizard a un prezzo relativamente basso e se il primo era un prezzo basso ma comunque non bassissimo questo invece un prezzo basso punto e stop perché mi sono ritrovato questo annuncio di shining charizard in vendita a 50 euro e voi direte Luca ma come hai fatto a cascarci era palesemente una stronzata come hai fatto sei stupido e tutte queste cose sì sì avete ragione però io banalmente ho fatto questo ragionamento magari ci sono delle persone che hanno delle carte non conoscono il valore di queste carte e quindi per 50 euro sono disposte a venderle perché per loro è un valore decisamente alto non sono io a venire a chiedere a te la carta a quel prezzo sei tu che la vai a vendere a quel prezzo lì e allora io ci provo giusto? non giusto? boh questo è stato il ragionamento che ho fatto io e dato che avevo appena acquistato un altro shining charizard da un prezzo più elevato che era alto sì ma non altissimo ho detto d'accordo faccio anche questa trattativa così con 300 euro in teoria sono riuscito ad acquistare due shining charizard almeno uno mi arriverà no quindi se una è una truffa l'altro almeno mi arriverà no ovviamente no sono stato truffato due volte su due ho perso tutti i soldi e allora vi lascio quella che è stata la conversazione con questa Federica M che poi abbiamo scoperto non chiamarsi nemmeno Federica M ciao Federica è disponibile? e tra l'altro lei subito non mi ha nemmeno risposto e quindi ho dovuto riscrivere nuovamente ciao Federica fammi sapere sì immagino che questa sia la risposta è disponibile quindi proseguo anch'io perfetto sarei interessato all'acquisto io sono di Courmayer precisamente devo dirvi la verità quando ho letto Courmayer ho detto cavolo fin là e io chiedo non sarebbe eventualmente possibile una spedizione? e allora Federica mi dice certo assolutamente ma a carico dell'acquirente e io gli dico certo sono disposto a coprire le spese di spedizione per raccomandata e volevo sapere il metodo di pagamento e lei mi dice che ha un normale conto corrente intestato avevo scelto la raccomandata proprio perché era tracciabile il metodo di pagamento non mi lasciava particolarmente tranquillo però ho detto ripeto è un prezzo talmente basso che anche se li butto via metti che invece arriva davvero ciò comunque guadagnato e allora io spiego che una raccomandata dovrebbe costare 6 euro circa che avrei ricaricato 7 euro in più per essere sicuro e che sarei pronto per il pagamento e Federica mi dice d'accordo appena rientro a casa facciamo tutto io la ringrazio ma le chiedo anche le foto dettagliate della carta davanti e dietro lei mi dice certo io la ringrazio poi io devo sollicitare quando ci sei girami i dati Federica lei mi risponde il giorno dopo va bene è più tardi e io grazie ma nel frattempo stava passando il tempo e queste foto di Charizard non mi erano arrivate è proprio lì che penso metti che è davvero una persona che ha delle carte lì ferme non ha idea del valore e quindi non è nemmeno particolarmente interessata vuole soltanto venderle ha trovato l'acquirente che gli compra un pezzo di carta 50 euro lasciamole il tempo che le serve se fosse stata una truffa ho pensato avrebbe avuto più volontà di accelerare questo processo e invece no era una truffa e basta passano alcuni giorni nel proprio lei a scrivermi ciao e io ciao Federica quando riesci girami foto e dati non risponde e allora io ancora una volta dico Federica e lei mi dice hey whatsapp qui entro poco e spesso perdo i messaggi io dico certo assolutamente tieni questo è il mio numero di telefono sentiamoci proprio su whatsapp a un certo punto mi arriva un messaggio da Federica e quindi la salvo Charizard all'interno della mia chat di whatsapp chiedo se riesce a inviarmi le foto della carta e anche i dati effettivamente queste foto della carta arrivano è un shining Charizard non proprio perfetto non in condizioni ottimali però oggettivamente queste carte queste foto della carta arrivano ce le ha lei ce le ha un amico un'amica le ha trovate su internet boh non ne ho idea le carte però ci sono ed è proprio lì che vado a domandare gli estremi di pagamento ora per ragioni ovviamente legate alla privacy non posso incollarvi negli estremi di pagamento nel nome dell'intestatario vi ricordo che stavo parlando con una certa Federica M e quando mi arrivano i dati del pagamento mi dice perfetto questo è il mio IBAN della mia carta intestata a Irene T Irene T ragazzi lo sapete ero veramente volonteroso di concludere al più presto questa roba non mi interessava nemmeno curarmi particolarmente del tutto quindi prendo un collo l'IBAN sulla mia app del conto corrente eseguo il pagamento fatto per me era già posto così puzzava già tantissimo era una situazione strana ma ribadisco il principio dentro la mia testa era non ha idea del valore della carta per lei 50 euro sono anche troppi e quindi è contenta di venderla 50 euro il giorno dopo invio quelli che sono i miei dati per la spedizione e mando anche la ricevuta della conferma dell'avvenuta ricarica e qui sparisce? no non sparisce no assolutamente no è proprio questo che non mi torna in entrambe le truffe una volta ricevuti i soldi non è che sono scappati hanno continuato interagire con me e questa cosa non riesco a comprenderla sinceramente al che mi viene un dubbio e dico hai già spedito delle carte in precedenza no hai idea di come si faccia ed è proprio lei che mi conferma che no non le ha mai spedite se ci sono dei consigli beh li ascolta volentieri cerco su google una foto di una sorta di imballaggio di sicurezza e la inoltro ed è proprio lei che mi conferma che il codice di tracciamento c'è stato che il pacco è partito e tutto a posto e basta dovrebbe semplicemente arrivarmi Charizard passano alcuni giorni quel codice di tracciamento ancora una volta non è proprio affidabile e però a un certo punto succede qualcosa di strano mi ero accorto che era effettivamente una posta 1 piuttosto che una raccomandata ma a un certo punto ciao federica non capisco perché ma sta tornando indietro la spedizione è restituzione al mittente ecco questa cosa è stata molto particolare molto strana e devo dire la verità questa cosa non l'ho compresa anche perché addirittura il pacco è tornato in Puglia e io mi domando ma come in Puglia non eri di Courmayeur e mentre edito il video mi è venuta in mente una cosa che non avevo detto mentre registravo ho preso il numero di cellulare quello con cui ho parlato su whatsapp e ho cercato di localizzarlo e il cellulare sembra essere a Bergamo altro che Puglia altro che Courmayeur e lì la puzza è ribruciato e anche di qualcos'altro inizia a manifestarsi con forza lascio passare ancora qualche giorno e domando Federica la carta ti è tornata indietro e non si attiva il doppio tic rimane un singolo tic su whatsapp e allora diventano certezze sono stato fregato il giorno dopo nuovamente ciao Federica fammi sapere ma non se ne parla e inizio a inviare una serie di chiamate su whatsapp senza alcun tipo di risposta torno sulla chat del marketplace di facebook e le faccio sapere che non riesco a contattarla ovviamente anche qui ero già stato bloccato e quindi le mie minacce di denuncia non sono servite a niente finita qui? no la parte grossa deve ancora iniziare questa è stata semplicemente una fregatura nei miei confronti dove sono stato poco attento però su qualche gruppo facebook mi accorgo che questa Federica è comunque conosciuta ma non solo Federica anche Irene che era il nome del conto corrente intestato per la truffa no fermi un attimo che cosa c'entra effettivamente Irene con Federica? sono la stessa persona? sono amiche? sono non lo so in combutta per truffare le persone? no la cosa incredibile è che Irene è una vittima a Irene è stata rubata l'identità sono riuscito a interagire con la vera Irene all'interno su facebook che mi spiega che semplicemente le è stato rubato il profilo è proprio lei che mi rivela di aver addirittura fatto denuncia per questo fatto e attenzione non solo mi spiega della denuncia me la invia io ho la denuncia di Irene che non abita a Courmayeur non abita in Puglia ma abita a Chioggia quindi proprio questo insieme di cose meravigliose spettacolari insomma Irene mi spiega che le hanno semplicemente rubato il profilo facebook e da quel profilo facebook hanno iniziato a creare degli annunci per truffare le persone e finisce qui tutta la storia? no è ancora di più perché abbiamo un furto di identità abbiamo una truffa nei miei confronti ma non solo nei miei perché inizio a cercare sui vari gruppi facebook e scopro che tante altre persone sono state truffate da questa Federica che in realtà è Irene che in realtà è Bo chissà chi è ed è proprio qui che entra in gioco uno dei miei più grandi compagni di tutta questa storia Antonio che saluto perché starà sicuramente guardando il video Antonio è un ragazzo che è stato truffato a sua volta da Irene con una cifra anche più elevata della mia superiore ai 100 euro come potete vedere i nomi iniziano ad essere mischiati Federica e Irene ma mettiamoli da parte perché vi dico che non si chiama né Federica né Irene e anzi è un uomo Antonio ha iniziato a cercare anche lui alcuni truffati da questa fantomatica figura ed è arrivato a trovare addirittura un ragazzo che è riuscito a riottenere i soldi indietro come ci è riuscito è riuscito a risalire al codice fiscale originale veritiero della persona che sta facendo questa truffa anche qui sono in possesso del codice fiscale è un codice fiscale di donna nata in Marocco che dovrebbe essere una parente di questo truffatore molto probabilmente la madre di cui avrebbe utilizzato i dati per ricevere altre ricariche ed è proprio qui che Antonio inizia incredibilmente ad avere una conversazione a distanza con questo truffatore Antonio inoltre ha il codice fiscale e questa cosa deve creare una sorta di paura nei confronti di Irene Federica o chiamatelo come volete scusa chi saresti tu e chi sarebbe questa guarda già so che hai rimborsato altre persone quindi inizia a dare rimborso ora prima che ti becchi 20 denunce Luca Toselli manda subito e anche Antonio Capasso non ci metto niente guardia di finanza ho tutto di te e lui dice rimborso di cosa a chi avete pagato scusa e cosa al che addirittura fa lo spavaggio e dice quanto siete disperati che avete bisogno di soldi e allora Antonio dice ah io va bene lascia stare vado a denunciare e lui dice per non rompere le palle visto che ho dei soldi in avanzo chi dovrei rimborsare sentiamo magari vi gira buono e ti fai il weekend ma attenzione prima due secondi fa che avete pagato e che cosa ma chi sei ma cosa ho fatto e poi ok vi rimborso cioè qui c'è la confessione del truffatore cioè qui c'è una persona che ammette di averne truffate altre che ammette effettivamente di avere dei soldi che derivano da attività illecite e che è disposto comunque a rimborsare le persone che ha truffato siamo partiti da una carta sul marketplace siamo arrivati a una truffa a un furto di identità e adesso addirittura un truffatore che confessa e non solo ci spiega anche il meccanismo con cui riesce a truffare e come è entrato in possesso dei dati di Irene addirittura si dimostra preoccupato per lei chissà la gente che la insulta poverina dille che presto il suo profilo sarà eliminato o passerà in mano ad altri quindi di stare tranquilla come prego in che senso al che domando ad Antonio scusami ma Antonio chiedigli un attimino come funziona questa roba sono curioso e allora il truffatore dice Antonio questa roba rimane tramete vai tranquillo non ci sto facendo un video sopra hai presente il darknet ci sono gruppi di vendita che vendono profili facebook cacherati conti clonati numeri anonimi eccetera eccetera anche conti di gioco esteri dove si possa riciclare sti soldi e poi prelevare e riusare in tutta sicurezza stiamo parlando di un video di carte pokemon o non lo so di black mirror certo io so che queste cose esistano ma non immaginavo che delle persone potessero comprare degli account rubati nel dark web per scippare rubare truffare 50 euro su uno shining charizard su facebook e Antonio incredulo gli domanda ma come hai scoperto tutta sta roba navigando per caso e tramite uno di telegram però siccome lo faccio sì ma ho un cuore spesso rimborso le persone e tu sei uno di quelli che mi ha fatto tenerezza so che è ingiusto ma io faccio un ragionamento lo stato è il primo ladro ci tassa ci ruba i soldi per ogni cosa allora dato che lo stato è autorizzato a farlo lo faccio anch'io ma non è proprio il tipo di funzionamento se lo stato ci tassa tu truffi i cittadini che sono comunque già truffati dallo stato o truffi direttamente lo stato secondo questo tipo di ragionamento ma cosa truffi me che già pago le mie tasse allo stato ma questa cosa non ha molto senso quello si chiama pizzo lo stato ruba ogni giorno alla gente ogni mese ogni anno ma io non sono lo stato sono uno stronzo che voleva un shining charizard la storia però non si è ancora conclusa perché Antonio è effettivamente riuscito a ottenere rimborso da questo truffatore non gliel'ha scritto tanto per ha detto sì sì ti rimborso e l'ha rimborsato non solo il truffatore a un certo punto ha detto d'accordo rimborso anche Luca dimmi quanti soldi gli devo sono 57 euro fammi sapere non hai fatto ci sei no no non ho ancora fatto se non ci riesco oggi faccio domani va bene e poi passa del tempo e allora io sollecito Antonio digli qualcosa non mi ha ancora rimborsato passano settimane e dice sto avendo problemi con i conti uno due giorni li faccio di stare tranquillo io in realtà ci avevo perso tutte le speranze ho detto d'accordo è passato talmente tanto tempo che ormai stiamo parlando di gennaio conversazioni magari di inizio febbraio siamo praticamente a metà marzo questi soldi non li riavrò più indietro due giorni fa Antonio mi manda un messaggio e mi dice il truffatore ha detto che non è stato bene ha avuto problemi di salute e che entro venerdì ti fa per i soldi ora è nuovamente venerdì è passato un'altra settimana da quel giorno i soldi ancora non sono arrivati però è strano pensare che il truffatore così dal niente a un certo punto gli è venuto in mente che i soldi doveva ridarmeli scusa non sono stato bene devi stare tranquillo ma che cazzo sta succedendo anche perché questo comunque i soldi li ha già rimborsati ad Antonio e anche altre persone ho visto conversazioni di ragazzi o commenti di ragazzi che dicono no io quei soldi li ho riavuti indietro ma non solo Antonio mi ha detto che a un certo punto il truffatore è venuto a conoscenza del fatto che avrei fatto dei video sulla truffa e che era molto carico e molto gasato di questa cosa dicendo sì che bello divento famoso perché me ne parla io credo che qui sia una situazione abbastanza intricata abbastanza distorta anche abbastanza preoccupante in primis per i nostri dati che sono sempre vittima di violenza digitale diciamo così da un momento all'altro Luca Toselli potrebbe diventare un account su Facebook che vende delle carte di Pokémon senza poi inviarle però poi non è che è quello che effettivamente truffa è quello che ha rubato il profilo di Luca Toselli che lui si prende soldi e Luca Toselli si prende la merda come è accaduto a questa Irene e già questo è gravissimo perché poi le ripercussioni arriverebbero su di me su quella che è la mia figura la mia identità reale associata a quella virtuale quindi tutto il discorso del dark web dei conti clonati dei profili rubati per me è molto grave ma poi abbiamo anche una persona con manie di protagonismo dall'altra parte che è felice di sapere che le sue gesta in riferimento a una lotta contro lo Stato che ha sicuramente dei punti che condivido ma la forma è decisamente sbagliata e l'esecuzione è totalmente distante dal ragionamento iniziale è felice di sapere che le persone possano sapere che lui truffa e compra sul dark web dei profili clonati e robe del genere però poi dice anche che ha un gran cuore che Antonio gli ha fatto pena e che è preoccupato per Irene non proprio una persona completamente stabile secondo me che magari ha davvero avuto dei problemi di salute mi dispiace ma io spero che i miei 57 euro li abbia anche usati per curare questi problemi di salute e non per altro se proprio deve aver usato i miei soldi spero che li abbia usati per qualcosa che gli abbia fatto del bene ok quindi il classico spero che tu li abbia usati in medicina potrebbe essere andato a buon fine però ragazzi qui siamo di fronte a delle situazioni molto gravi e la cosa che mi dispiace di più è che veramente facebook non fa niente per segnalare queste cose anzi per risolvere queste cose dopo le segnalazioni che vengano fatte che quotidianamente tante persone vengono truffate non solo per le carte pokemon le carte in generale per tutto sul marketplace di facebook che è una vera e propria giungla non c'è un filtro non c'è una gestione a parte di facebook come terzo come può essere su vinted per esempio dato che c'è vinted che si tiene i soldi fino a che l'oggetto non arriva a destinazione c'è la possibilità di fare reclami su marketplace è la giungla la giungla quindi io non vi dico di non acquistare su marketplace ma di starci molto attenti io sinceramente non guardo più niente perché sono rimasto scottato da questa cosa anche se ero già consapevole prima dei pericoli delle cose che bisogna guardare per tutelarsi e bla 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 voglio semplicemente evitare questo discorso però volevo anche condividere insieme a voi questa storia perché secondo me ha dell'incredibile e per concludere questo video voglio farvi una domanda secondo voi avrò mai indietro questi soldi otterrò mai questo rimborso di 57 euro perché Antonio pensa di sì io sono convinto di no però ogni tanto questo truffatore torna alla carica e dice scusa no entro due giorni ti faccio la ricarica e ripeto per me no però le scommesse sono aperte e magari vi aggiornerò nei commenti di questo stesso video e proprio nei commenti vi invito ad andare di iscrivervi al canale di mettere un like a questo contenuto se vi è piaciuta questa storia legata alle truffe e fatemi sapere un po' la vostra opinione e cercate di stare attenti spero di avervi messo in guardia sono stato punito io per educarne 100 diciamo così grazie a tutti grazie a tutti